E' una sala fantastica! Allora, non capita spessissimo di vedere delle sale così piene con un sacco di ragazzi bellissimi e quindi intanto complimenti a chi è venuto e complimenti a te che li hai portati! Benvenuti a tutti e direi che possiamo iniziare a raccontare questo libro bellissimo che ha un nome Asadi, che significa libertà e che è una parola stupenda che fa un po' da filo rosso per tutta la storia di Alessia, che è una viaggiatrice e che ha inseguito in giro per il mondo, ecco insomma la libertà, un viaggio che l'ha portata a scrivere poi questo libro, che nasce come molte belle imprese da una promessa, una promessa che Alessia ha fatto alle donne con cui è stata rinchiusa, alle donne iraniane con cui è stata rinchiusa nei suoi 45 giorni di prigionia e cioè di dare voce, una volta uscita dal carcere, di dare voce alle loro storie e quindi è da qui che partirei, da quella promessa che hai fatto a quelle donne Buonasera a tutti, grazie per essere qui, mi emoziono ogni volta questo momento che guardi e grazie Sì, questa promessa nasce a una donna che è stata molto molto speciale per me nella cella il suo vero nome è Asade, a voi posso dirlo, in realtà sul libro è chiamata con un nome diverso Asade che quindi vuol dire libera in farsi Le parlai di questo libro che avevo appunto in mente di scrivere e lei mi disse dovresti chiamarlo l'inferno nel paradiso però secondo me non era un nome adatto perché comunque non ho mai nonostante ecco i giorni che ho passato ad Evin non ho mai paragonato l'Iran all'inferno anzi, secondo me l'Iran rimarrà sempre un paese meraviglioso purtroppo in parte rovinato da questo regime però è una terra incredibile, tra le più belle che abbiamo mai visto e quindi lei mi disse Alessia e quindi come vuoi chiamarlo questo libro un'indomani quando lo scriverai? e gli dissi non lo so ancora poi dopo qualche giorno questa, anzi dopo due giorni questa donna venne portata via dalla mia cella perché alle guardie non piaceva quando io parlavo con altre donne in inglese ecco perché non parlavo mai con nessuno perché la maggior parte di queste ragazze comunque non parlavano in inglese e quando capitava che qualcuno appunto potesse comunicare in inglese era il momento che me la portavano via dalla cella e quel giorno che vennero a prendere Sade per portarla via io stavo malissimo perché è stata la prima donna che è stata veramente una mia amica lì e mi disse allora Alessia come lo intitolerai questo libro? io la guardai, lei stava ferma su questa porta con la guardia che la tirava per il braccio per portarla via io non sapevo che cosa rispondere, non ci avevo pensato e proprio in quel momento ci fu una donna che da un'antracella urlò a Sadi che appunto è libertà, era un urlo che si sentiva molto spesso ad Evin io l'ho guardata e ho proprio detto feci proprio questo cenno così e dissi a Sadi e infatti c'è anche questo punto esclamativo perché appunto era un urlo quello che ci fu e quindi gliel'ho promisi a lei inizialmente che avrei scritto questo libro ma poi anche a tutte le altre donne che appunto erano nella cella con me una sera ci siamo sedute in cerchio e una alla volta dovevamo dire la prima cosa che avremmo fatto una volta che saremmo uscite da Evin un'una di noi appunto se ne uscì con un desiderio diverso il mio era io scriverò questo libro infatti è stata la prima cosa che ho fatto quando sono tornata e niente, questo L'hai intitolato Libertà e come dicevamo prima, come dicevo prima la libertà è quello che un po' ha guidato la tua storia di ragazza ed è quello che ti ha portato viaggiando ad arrivare in Iran era un viaggio però che non aveva nulla a che fare con le proteste e la rivoluzione era un viaggio, una dimensione di vita non politica però tu quella libertà che cercavi improvvisamente l'hai persa e quindi volevo chiederti come è successo di raccontarci insomma quel giorno e come sono andati i fatti Sì, giorno dell'arresto Allora, il giorno dell'arresto era il mio trentesimo compleanno a me non è mai piaciuto festeggiare il mio compleanno però in quella circostanza avevo incontrato da due settimane questo gruppetto di ragazzi cioè c'era un ragazzo iraniano, un ragazzo polacco, un ragazzo francese si era creato tra di noi una bellissima complicità e quindi dissi dai festeggiamolo per una volta questo compleanno andammo a Tochal che è una montagna che si trova a nord di Tehran abbiamo preso questa seggiovia, siamo arrivati a quasi 4.000 metri era bellissimo e lì mi fecero questa sorpresa con delle tortine, la candelina e del chai è stato un momento estremamente, vabbè, molto speciale mi fecero dei regali mi sentivo, cioè ero proprio felice ero proprio felice e poi andammo al parco giochi perché io, vabbè volevo andare a fare le montagne russe e poi abbiamo organizzato questa escape room perché non la conoscesse l'escape room è un gioco di squadra dove ti chiudono in una stanza e devi risolvere degli enigmi per uscire da questa stanza il tema di quella serata era guardie e ladri dove noi dovevamo fare la parte dei ladri e le guardie dovevano prenderci abbiamo preso uno snap che è l'Uber, il taxi tipico dell'Iran siamo arrivati davanti l'entrata io sono stata la prima a scendere e quando sono arrivata appunto davanti l'entrata di questo escape room c'era questo mone che mi bloccava il passaggio e aveva queste braccia così era molto molto serio e non si spostava, cioè non mi faceva entrare quindi provai a dire guardi abbiamo una prenotazione e lui non diceva nulla quindi mi sono girata verso la mia amica iraniana per dirle ehi, mi dici qualcosa? e invece ecco nel momento in cui mi sono girata nel libro poi la descrivo come una scena muta invisibile al mondo intero perché improvvisamente vi di tutti i miei amici che avevano le braccia bloccate dietro la schiena e c'erano diversi uomini che avevano delle telecamere in mano chi ce l'aveva in fronte ci stavano riprendendo erano vestiti normali vestiti normali, non erano in difesa e c'erano quattro macchine parcheggiate in doppia fila sulla strada nel secondo successivo c'è stato un uomo che si è avvicinato e la prima cosa che ha fatto è stata prendermi lo zaino prendermi il marsupio e mi ha bloccato anche a me le mani dietro la schiena mi riprendeva io che ho fatto? ridevo ridevo come una matta dicevo mazza quanto ho organizzato bene sto gioco perché dico guardi e ladri però mi hanno dato manco la possibilità di scappare qua cioè mi avevano preso subito quindi io ho cominciato a ridere ridevo al contrario dei miei amici che invece erano abbastanza seri e ci hanno poi portato nella macchina me l'hanno messo in macchina con Luis il ragazzo francese mentre la ragazza iraniana con il ragazzo polacco nella macchina dietro inizialmente siamo andati nel nostro ostello dove hanno preso tutti i nostri oggetti personali e lì ci approcciò un uomo dove mi disse Alessia io so tutto di te devi stare tranquilla anche perché io avevo già iniziato a dare cenni di dove stiamo andando che volete ho capito che comunque non si trattava più di un gioco e niente mi hanno detto di stare tranquilla che dovevano fare semplicemente dei controlli mi chiese le password dei miei social media le mail il codice di sblocco del telefono lo stesso discorso con i miei amici e poi niente ci hanno ricaricato nella macchina io pensavo che ci stessero portando appunto in un commissariato per fare questi approfondimenti invece dopo poco una guardia ci ha passato una scatola di legno dove all'interno c'erano delle bende e ci hanno detto semplicemente di indossare queste bende di coprirci gli occhi e di mettere la abbassare la testa di metterla tra le ginocchia quello è stato il primo momento che ho avuto veramente paura cioè prima avevo paura però al tempo stesso dicevo vabbè devono fare dei controlli magari a un momento storico un po' particolare ora in Iran però il fatto di essere bendata il fatto no no lì ho detto no qua c'è qualcosa che non va e da lì niente quando mi hanno levato la benda è dove inizia il mio libro cioè nome e cognome avevo un uomo che stava dietro una scrivania che mi stava letteralmente schedando chiedendo nome professione date di nascita e mi scattò una foto e poi mi portarono in una stanzetta una stanza vuota che non aveva l'aspetto di una cella cioè era una stanza letteralmente vuota con pareti bianche mi misero faccia al muro sempre con la benda sugli occhi mi dissero di aspettare lì ho passato tutta la notte lì in piedi con gli occhi bendati con la faccia al muro e la mattina seguente venne un uomo quello che mi ha arrestato per farmi delle domande e da lì è iniziato l'incubo in tutto questo tu non hai mai partecipato a manifestazioni quindi insomma una causa oggettiva non c'era ti sei chiesta cioè ti sei dato una spiegazione del perché siano venuti a cercarti sì diciamo che in Iran solitamente non vogliono che si parli di loro in altri paesi quando venne uccise anche Masa in realtà la notizia che venne data ufficialmente fu quella che che Masa aveva avuto un infarto durante l'interrogatorio Masa è la ragazza che è stata uccisa durante cioè prima che iniziassero le proteste che aveva avuto appunto un infarto durante l'interrogatorio cosa non vera perché Masa aveva 22 anni una ragazza in salute poi degli hacker sono riusciti a entrare nei compiuti nei sistemi dell'ospedale scoprendo che Masa era morta con ematomi cerebrali e fratture osse cioè comunque era stata malmenata quindi loro fanno del tutto per nascondere prove evidenti e lo stesso discorso secondo me era legato al nostro arresto al fatto che noi siamo stati visti come una minaccia cioè dei turisti che si trovavano in Iran in quel momento in particolare potevano essere persone che potevano raccontare al resto del mondo potevano parlare con giornalisti o potevano essere giornalisti semplicemente per raccontare quello che stava succedendo in Iran quindi penso che noi siamo stati fermati per questo motivo anche perché voi conoscete la mia storia però in realtà sono stati tanti europei che sono stati arrestati in quei giorni e tanti di loro sono ancora lì tu in quel carcere hai passato 45 giorni che ecco sono meno di quello che poteva succedere ma sono un'eternità hai voglia di raccontarci come come era la vita lì dentro insomma come ti sei abituata o non abituata a quella condizione beh in realtà quando mi hanno portato via da Evin che mi hanno liberato io non lo sapevo però pensavo mi stessero portando in un'altra prigione in quel momento per me fu è assurdo da dire però fu molto difficile lasciare quel luogo che in qualche modo quella cella era diventato il mio posto sicuro no? sapevo che lì dentro nessuno mi avrebbe fatto del male in qualche modo anche se 45 giorni in una in una stanza completamente vuota non avevamo letti avevamo soltanto una coperta per uno c'era stato dato uno spazzolino con il dentifricio e un piccolo asciugamano per farci la doccia ci permettevano di fare la doccia teoricamente doveva essere tre volte a settimana il lunedì il mercoledì e il sabato in realtà non era così anche perché c'era soltanto una doccia per ogni corridoio e diciamo nel mio corridoio c'erano circa 60-70 persone dove c'era la doccia c'era anche il bagno quindi era difficile trovarlo libero quindi anche per questo motivo non potevamo farci la doccia tutte le volte volevamo non ci veniva data nemmeno la cartigenica per andare al bagno se uno aveva i soldi poteva comprare la cartigenica se non avevi soldi non potevi comprarla nel mio caso io non avevo soldi purtroppo per diverso tempo appunto nessuno nella cella aveva soldi quindi siamo stati senza cartigenica poi arrivò una donna che aveva dei soldi e quindi fu lei a comprarla e a condividerla con tutti noi non c'era l'ora d'aria per noi erano 5 minuti ed erano 5 minuti il martedì e ogni tanto 5 minuti il giovedì e di tutto quanto quella è stata la cosa che ti è pensata di più perché quei 5 minuti d'aria in realtà ci portavano in un'altra cella con l'unica differenza che questa cella aveva una parte di tetto scoperta quindi quello che io chiamo il quadrato il quadrato di cielo nel libro era letteralmente un quadrato di cielo e lo potevo vedere per 5-10 minuti a settimana e per una persona che come me era abituata a stare sempre all'aria aperta a girare per me era impensabile stare rinchiusa lì infatti poi a un certo punto non era nemmeno più piacevole aspettare quel giorno quei 5 minuti d'aria perché passavano così e in più ti ricordava che c'era un mondo là fuori che il mondo nonostante tutto andava avanti anche senza di noi e quella era la cosa che mi faceva più male anche il fatto di sapere che quando mi dissero che dovevo rimanere lì dentro per 10 anni dico caspita io appena compiuto 30 anni uscirò da qui a 40 anni 40 anni che faccio cioè nel senso non che voglio dire che a 40 anni la vita è finita però ti perdi 10 anni della tua ti portano via 10 anni della tua vita così ricominciare da capo dopo 10 anni poi dentro Evin Evin poi ripeto il settore Evin è una città ci sono tantissimi reparti uomini e donne sono sempre separati però c'è il reparto dedicato a persone che hanno commesso omicidi ai ladri di tutto e di più noi eravamo nel 2009 quindi è quello dedicato agli oppositori riservato agli oppositori politici questi oppositori politici chi sono? sono scrittori registi poeti giornalisti persone che in qualche modo hanno detto la loro hanno espresso il loro pensiero persone che non hanno fatto nulla hanno fatto quello che facciamo noi tutti i giorni esprimere il nostro pensiero leggere magari un libro che ecco ad esempio il mio libro è illegale adesso in Iran spesso le mie compagnicella vedono su Instagram che io sto pubblicando delle foto del libro hanno letto il nome Asadi hanno detto Alessia ci mandi il libro ci fai leggere qualcosa io non glielo posso mandare perché comunque le metterei in serio pericolo se venissero fermate e trovassero questo libro nel loro computer li arresterebbero immediatamente perché questo libro è sì in questo caso sarei un'oppositrice uno cioè sarei un'oppositrice politica e le giornate da Devin cioè non passavano mai no non no non succedeva nulla cioè stavamo lì sedute per terra le ragazze tra di loro parlavano ovviamente parlavano in farsi che io non capivo una parola e nel mio caso io guardavo il muro e levavo le doppie punte e scrivevo questo libro non con carta e penna perché non mi era concesso una carta e penna ma lo scrivevo qua e mi ripetevo cioè avevo creato questa scaletta nella mia mente e era diventato letteralmente un passatempo cioè il fatto di poter immaginare in qualche modo questo questo libro e basta cioè non c'è molto da dire su quelle giornate hai parlato degli oppositori politici giornalisti scrittori registi e poi le donne che non erano giornalisti scrittori registi erano semplicemente donne comuni loro per quanto tu possa aver comunicato insomma con difficoltà che che donne erano e che storie avevano tanti di loro sono nati dopo il 1979 il 1979 quando ci fu questa la crisi diciamo la non la crisi la la rivoluzione scusate la rivoluzione iraniana e prima del 79 l'Iran era un paese libero cioè come lo siamo noi quindi queste donne che sono nate dopo il 79 non hanno minimamente conosciuto il significato della parola libertà per libertà non mi riferisco al fatto di indossare l'Ijab cioè quello è l'ultimo dei problemi in Iran si tratta libertà di seguire i propri sogni io conobbi una violinista in una in una caffetteria di Spahn ero una ragazza molto giovane lei prendeva lezioni private di violino di nascosto perché per una donna è vietato esibirsi in pubblico il suo sogno infatti era trasferirsi in Germania perché voleva sognava di suonare il violino davanti a un pubblico però se sei donna non lo puoi fare se sei donna non puoi andare in bicicletta se sei donna non puoi non puoi cantare quindi vi rendete conto che l'Ijab è l'ultimo dei problemi quando si tratta che qua non ti permettono di seguire i tuoi sogni di essere quello che vuoi essere queste donne sono donne come lo siamo noi non hanno nulla di diverso sono donne che sognano sono donne che in tante hanno una vita segreta perché nonostante tutta la situazione in Iran cercano sempre le persone di crearsi una vita una vita segreta una vita che non conosce nessuno quando ero a Tehran conobbi questa ragazza che mi invitò ad andare in una discoteca ovviamente le discoteche sono illegali in Iran però era una discoteca sottoterra nascosta una cosa però molto frequente in Iran sono anche le spie cioè le spie possono essere i nostri amici possono essere i nostri familiari possono essere ecco una persona che si imbuca in una discoteca ed è capitato molto spesso che appunto qualcuno avvisasse la polizia di queste serate in discoteca la polizia andava arrestava tutti e purtroppo vengono frustate le persone quando commettono questi crimini al momento della mia liberazione cioè quando io ho consegnato questo libro tutte le mie compagne erano state liberate soltanto ultimamente una ragazza è stata riportata ad Evin semplicemente per aver scritto su Twitter un messaggio in ricordo di Masa nell'anniversario da un anno della sua morte e questa ragazza semplicemente per aver scritto un pensiero su Masa le sono state date circa 70 frustate non più diversi anni in prigione cose assurde sentite da questa parte del mondo in Iran è tutto normale Asade è sempre quella donna alle quali promisi che avrei scritto questo libro un giorno mi disse che l'Iran è come se fosse un'isola in mezzo all'oceano e tutti sanno quello che succede in Iran ma nessuno fa niente per aiutarli è così è così assolutamente anche perché poi molti di questi ragazzi hanno famiglie che sono genitori che sono invece cresciuti in uno stato laico e in qualche modo hanno conosciuto la vita libera per cui con tutte le difficoltà del caso hanno insegnato la libertà di pensiero ai loro figli io ho conosciuto diversi ragazzi iraniani che vivono qui a Torino e tutti quanti descrivono la stessa situazione insomma la cultura di stato non è quella che poi vivono nelle loro case e nelle loro famiglie e tra l'altro una cosa secondo me molto interessante è vedere come ci sia stato un fronte comune delle ragazze e dei ragazzi e come la rivoluzione se così possiamo ancora chiamarla degli iraniani sia passata attraverso un pensiero femminista i diritti delle donne questo insomma quando eri lì ha avuto un peso per te insomma l'hai sentita questa insomma questa importanza del pensiero femminile sì quando io non ho mai partecipato alle proteste però la notte che scoppiarono le proteste purtroppo mi ritrovai lì perché non lo sapevo rientravamo da una giornata che abbiamo passato fuori con i miei amici rientravamo in ostello e ci siamo ritrovati nel mezzo di queste proteste e poi in un secondo momento in mezzo ai rumori di scappare dagli spari e da questa pioggia di lacrimogeni che cadeva dal cielo nell'ostello dove stavo io c'erano diverse persone iraniane che partecipavano alle proteste erano tutti uomini erano tutti uomini e la cosa che mi colpì più di qualunque altra cosa fu il fatto che tutti questi ragazzi tutte le persone che andavano a protestare erano ragazzi giovani ragazzi come me ventaenni anche più piccoli e sapevano benissimo che il momento che abbandonavano l'edificio il momento che decidevano uscire di casa sapevano che c'era la possibilità che non sarebbero tornati noi non sappiamo minimamente cosa vuol dire rischiare la nostra vita per la nostra nazione per liberare la nostra noi non sappiamo il significato di tutto questo e io me lo sono ritrovato appunto davanti gli occhi e vedere ragazzi appunto ventenni che uscivano per una battaglia che in qualche modo non era nemmeno la loro perché erano uomini però al tempo stesso lo facevano per le loro donne perché non è vero quando si dice che gli uomini obbligano alle donne a mettere l'ijab in iran non è vero quando dicono che le donne sono sottemesse in questi paesi non è questo non è assolutamente vero a volte ho conosciuto tantissime donne in iran che erano felici di indossare l'ijab però dovrebbe essere una scelta non un obbligo che non viene dal marito viene da nei piani più alti se si può dire e e comunque ecco queste proteste la maggior parte delle volte cioè la maggior parte delle persone erano tutti tutti uomini le donne erano di meno e l'unica cosa che facevano era semplicemente magari tagliarsi una ciocchetta di capelli dar a fuoco l'orijab urlare donna vita libera libertà cioè noi io dico sempre noi in Italia siamo dei vandali quando andiamo a fare manifestazioni andiamo a fuoco cose rompiamo vedrine nei negozi cioè loro non facevano nulla di tutto questo cioè per quel poco che ho visto quella sera da quello che si sentiva urlare donna vita libertà morto il dittatore e basta tanto e tanto è bastato per insomma farli finire dove dove tu sai tu hai mai alcuni di questi ragazzi non sono più tornati a casa di questi ragazzi e queste ragazze forse se non sbaglio anche una tua compagna di cella a un certo punto è stata portata in infermeria e non ne hai più saputo nulla tu hai mai avuto paura di di non non di stare dieci anni in prigione ma di morire di non riuscire a tornare a casa avevo paura di essere torturata quello sì specialmente all'inizio quando venni cioè quando mi dissero che mi trovavo a Devin 209 conoscendolo già come posto perché avevo fatto delle ricerche proprio due settimane prima avevo letto che cosa succedeva a Devin 209 quando mi dissero sei a Devin 209 furono i miei compagni di cella a dirmelo ho detto ok io non uscirò mai così però è stata una paura che è durata 4-5 giorni è assurdo a dire però era l'ultimo dei miei pensieri quando quando stavo lì tutte le sere noi cantavamo canzoni che sono illegali in Iran tra cui Bella Ciao loro la cantavano in farsi io la cantavo in italiano questa canzone che rappresenta semplicemente rappresenta la libertà non è che ha un significato politico esattamente alle guardie non piaceva assolutamente no anzi dovevamo stare zitti a volte ci prendevano dalla cella e ci portavano via non sapevi mai dove ti portavano che ti facevano però nonostante ciò a nessuno interessa volevamo continuare volevamo sentirci umane volevamo ancora sentirci che potamo cantare se volevamo cantare che volevamo dire la nostra e ti dimentichi che c'hai paura che magari ti possono fare qualcosa perché è più importante in quei momenti sentirsi vivi purtroppo Evino non ti fa sentire un essere umano però noi a modo nostro cercavamo ecco anche cantando Bella Ciao a me piaceva sentire ancora che ero che ero un'umana e che potevo fare che ero libera a modo mio che potevo fare quello che volevo no? è lo stesso discorso per queste per queste donne facevamo facevamo questo la paura non era tanto per noi la paura è quando ti metti a pensare ai cari che hai lasciato a casa cioè il mio terrore è stato il mio pensiero fisso sono stati i miei genitori perché sapevo che non non sarebbe stato facile per loro e tra l'altro non ti è stato concesso sentirli fino ad un certo punto insomma tra l'altro sì io mi permissero di chiamare la mia famiglia dopo quattro giorni che mi trovavo a Devin perché io ero diventata penso insopportabile per tutte le guardie non mi reggeva più nessuno quindi mi hanno permesso di chiamare casa poi non mi hanno nonostante io chiedessi e pregassi piangessi urlassi tutti i giorni chiedendo alle guardie di farmi chiamare casa non me l'hanno permesso poi per un altro mese poi il cervello cioè l'unica cosa che potevo fare oltre a levarmi doppie punte era quella di pensare no e l'unica arma che avevo tra le mani come prigioniera europea era quella di dire queste persone non possono farmi morire qui dentro ok faccio il digiuno mi rifiuto di mangiare non mangio al costo di arrivare in condizioni pietose ad un certo punto dovranno accontentarmi no infatti al mio quinto giorno cioè la mattinata del mio quinto giorno di digiuno mi hanno mi hanno chiamato dalla cella e mi hanno permesso di chiamare a casa e io durante quel mese stavo impazzendo letteralmente perché quando avevo avvisato i miei genitori che mi trovavo in prigione era stata una chiamata dello stile mamma sono in prigione non ho fatto niente chiamo alla farnesina non ho fatto niente mia madre mi disse solo ok cioè non ho sentito nient'altro perché mi strapparono via il telefono dalle mani non potevo sapere come mia madre aveva reagito a quella chiamata magari era morta di infarto il mio cervello andava il pensiero andava ovunque quindi quel mese fu terribile perché mi ero fatta dei pensieri terribili poi ecco finalmente dopo questo digiuno mi hanno permesso di chiamare a casa dove sta chiamata di circa 5 minuti dove i miei genitori mi hanno detto stavano insieme in quel momento mi dissero che stavano facendo del tutto per tirarmi fuori di lì non avevo dubbi in merito mi dissero Alessia vedrai cioè noi quello che potremmo fare lo stiamo facendo l'abbiamo fatto vedrai ora qualcosa succederà sì ok vabbè cioè a me era come non mi interessava nulla di quello per me l'importante era sapere che loro stavano bene che erano vivi e basta tra l'altro tu hai anche avuto un attacco di panico e da lì hanno insomma vi hanno sedate drogate insomma vi hanno quello succedeva cioè tutte quante gli attacchi di panico sì ho cominciato ad averli dopo un po' ci davano tutte delle pasticche pasticche che inizialmente provavo a a rifiutare o a nascondere sotto la lingua però vabbè ci mettevano due secondi a vedere che non le avevo ingoiate però in un secondo momento queste pasticche sono diventate in qualche modo essenziali perché mi permettevano almeno di dormire e dormire era in qualche modo una fuga da quella da quella realtà no stesso discorso per le mie compagne quindi già il fatto che anziché addormentarti alle tre del mattino e svegliarti ad ogni urlo che tu senti ad evin potevi dormire almeno una parte della giornata era andata tu spesso racconti le urla di quel posto riesci a raccontarle anche qui è il primo pensiero quando mi dicono evin la prima cosa che mi viene in mente sono i rumori sarà che i suoni il rumore di quella porta quando si apriva e quando si chiudeva il rumore delle grida grida di disperazione le grida di dolore che erano ben diverse tra di loro le grida di madri che piangevano per i loro figli e corravano il nome dei loro figli le grida di donne che venivano torturate perché che venivano torturate cioè era era proprio un rumore che non inequivocabile eh sì e loro provavano a coprirlo con questa radio che non era era il rumore di questo cioè era un disco con registrato questo rumore di una radio non sincronizzata e quando si accendevano questo disco sapevamo che da lì a pochi secondi partivano queste grida che ovviamente non riuscivano a cancellare questo disco e si senti impotente cioè stavamo lì e non nascondo che a volte ci tappavamo le orecchie perché perché devi sopravvivere no ti senti impotente più che altro senti che vorresti fare qualcosa senti che dall'altra parte del muro c'è una donna che chissà che cosa caspita ti stanno facendo e tu stai là e stai lì ascolti che fai non puoi fare nulla e quell'impotenza faceva male quindi a volte era più semplice tapparsi le orecchie non sentire fare pinta di essere da un'altra parte hai appena detto che insomma le porte di quelle celle si aprivano e si chiudevano un giorno per te si sono aperte e non si sono più richiuse come è stato dopo quell'esperienza trovare la libertà e come è stato ritornare a vivere dopo un'esperienza del genere quando sono uscita da quella celle non pensavo mi stessero liberando non l'ho capito fino all'ultimo quando mi hanno portato in aeroporto quando mi hanno detto sei libera non ero felice non ho provato un senso di sicuramente ho provato un senso di sollievo sì ma non ero felice forse non lo sono tuttora cioè non sento la felicità di essere libera perché secondo me la libertà dovrebbe essere un qualcosa di universale e so che non è così per tutti so che il mio amico è ancora lì e so che tante donne ecco Simone è stata riportata in cella scusate io qualcuno di voi ha letto il libro direte chi è sta Simone io i nomi li ho cambiati tutti alla fine è il libro quindi non ricordo adesso i nomi finti che ho dato alle mie compagne Narges è la donna che ha vinto ora il premio Nobel una donna che negli ultimi 30 anni ha dedicato la sua vita per combattere per la sua nazione lei cercava di abolire anche la pena di morte in Iran cosa ha fatto questa donna sono 8 anni che non vede i suoi figli sono 30 anni che fa avanti e indietro dalla prigione l'ultima volta le sono state date 154 frustate come può essere felice con una libertà che è solo mia non lo so felicità no mi sento serena sì sto bene ho tutto però come hai ricostruito la tua quotidianità perché appunto possono succedere tante cose brutte nella vita e magari riprendersi è comunque complicato però questa è un'esperienza che almeno non rientra tra quelle brutte che uno si può immaginare quindi al di là della felicità ricostruire proprio la normalità e ricominciare a vivere che percorso è stato come l'hai fatto e che cosa ti è stato di aiuto l'amore cioè l'amore da parte della mia famiglia da parte dei miei amici eh sì l'amore è quello mi ha aiutato tantissimo diciamo io nella mia vita ho avuto diversi traumi sono una persona che specialmente durante i giorni che ho passato a Devin mi hanno dimostrato che alla fine sì sono una ragazza molto forte forse dovuto anche dal fatto di questi traumi che ho avuto precedentemente però sono in grado di superare qualsiasi cosa ma più che altro sono una persona che vive molto nel presente cioè sono qui sto bene sto qua con voi ho tutto sono in salute non mi manca nulla e quindi non posso stare male per un qualcosa che è finito ed è passato quindi per me questa consapevolezza è molto importante e mi permette ad oggi di dire ragazzi sto bene non vi dico fesseria sto bene sono tornata a sorridere la prima volta che mi vidi allo specchio dopo 45 giorni mi guardai gli occhi e dissi oddio non mi riconoscevo adesso rivedo quella luce negli occhi ho ripreso in mano tantissime cose della mia vita sono cambiata sì tanto sicuramente mi sento più molto più matura rispetto a prima molto più consapevole anche di quello che ho tutto quello che ho il fatto di alzarmi la mattina uscire fuori in balcone pomarmi quella sigaretta alzare gli occhi e vedere oddio il cielo è infinito qui no al contrario di tante persone che non possono farlo e poi c'è una cosa che dico a tutte le mie presentazioni perché secondo me è veramente importante il fatto che noi ci lamentiamo veramente di tante tante cose tante cose che nella vita quotidiana che in realtà non che cosa sono cioè non ci manca nulla ragazzi non ci manca nulla abbiamo tutto io pure ero la prima persona che si lamentava prima la prima persona che c'era sempre qualcosa che non le stava bene poi ecco ti ritrovi a fare un viaggio in una terra che hai sognato per così tanto tempo invece anziché fare un viaggio in una terra ti ritrovi a fare un viaggio attraverso attraverso le persone attraverso i racconti attraverso a quello che vedi attraverso la cella di una prigione ti rendi conto in quei momenti quali sono i veri problemi nella vita ecco una cella di nira in questo momento quello è un problema perché non ti permette di essere quello che sei quindi ad oggi ho la consapevolezza di dire sì sono fortunata lo siamo tutti siamo tutte persone fortunate abbiamo tutto è vero la libertà non è scontata io fino al giorno prima ero libera cioè il 28 settembre stavo festeggiando il mio compleanno esprimendo desideri mentre spengevo le candeline dieci minuti dopo ero nella cella di una prigione era l'ultima cosa che mi sarei aspettata però dovremmo vivere un pochino più nel presente nel momento anziché pensare al passato pensare al futuro perché intanto tutto cambia è in continua evoluzione sempre in cambiamento quindi dovremmo apprezzare il momento quando abbiamo le cose anziché farci tutte queste foto viviamoci dei quei momenti facciamo quei click con gli occhi anziché le macchinette fotografiche perché è perché sono momenti speciali qui in Italia c'è una comunità di ragazzi iraniani che per ragioni prevalentemente di studio insomma sono qui per ragioni prevalentemente di studio ed è molto molto numerosa perché l'Italia è uno dei paesi che più facilmente concede visti di studio agli iraniani tu sei rimasta in contatto con insomma con questa comunità sei in contatto con questa comunità so che come dire organizzano molti raduni incontri manifestazioni insomma sei ancora nel circuito sono andata alle manifestazioni una sola volta è stato terribile forse non ero ancora pronta era febbraio avevano organizzato questa manifestazione a Roma improvvisamente da queste casse partì la canzone Bella Ciao non ce l'ho fatta sono poi non lo so erano tutti persone iraniane in quel momento avevo ancora la mia mente non era del tutto guarita mettiamola così ho avuto paura e sono andata via sono in contatto con tutte le mie compagnie di Cella e ho conosciuto tantissimi iraniani che vivono in Italia tanti che spesso mi chiedono anche aiuto che mi chiedono Alessia ci puoi aiutare a venire in Italia oppure ragazze che hanno preso una borsa di studio si sono trasferite qua in Italia l'altro giorno mi ha contattato questa ragazza che ho conosciuto appunto in Iran che con la sorella si sono trasferita a Milano il problema è che appena vedono il passaporto iraniano e non gli affittano casa e quindi hanno sempre bisogno di un garante cioè comunque non è così facile nonostante ecco non non è facile lasciare il proprio paese con tutti i pro e tutti i contro però arrivano qua non parlano la lingua e tutto quanto però gli affittano nemmeno casa a queste ragazze il che Milano una situazione la vita non è che agli studenti italiani quindi insomma è doppiamente è doppiamente difficile questi ragazzi hanno lasciato casa anche tu hai lasciato casa sette otto anni fa perché hai scelto questa insomma vita generante insomma perché hai scelto di fare del viaggio la tua dimensione in realtà non l'ho scelto è semplicemente successo sono partita per andare in Australia su quello che dove essere un anno poi sono diventati due con i soldini che mi ero guadagnata poi anziché l'ho spesi per altri viaggi e poi è stato sempre sempre così fino al giorno in cui sono riuscita a iniziare mi sono creata un mio business online ho cominciato a lavorare organizzando viaggi ad altre persone e automaticamente potevo mantenermi mantenermi in viaggio a me il fatto che piace dei viaggi non è tanto a distanza di anni quando qualcuno dice ti ricordi quel tramonto che hai visto ad Harley Beach in Australia sì ho visto un bel tramonto però se qualcuno mi chiede ti ricordi quel pescatore che hai conosciuto ad Harley Beach io mi ricordo il pescatore della storia che mi ha raccontato il pescatore il tramonto non mi ricordo alla fine quello che ti porti a casa dopo tutti questi viaggi sono gli incontri con le persone è vero che offrivi un euro un dollaro che fosse a chiunque quello è capitato è capitato una volta come mai perché io penso che ad esempio tutte queste presentazioni sto facendo in questi giorni a fine presentazione a me piace andare a fare un aperitivo andare a prendere una cosa a bere con le persone che vogliono venire dopo a fare questo aperitivo perché escono mi rendo conto quanto ognuno di voi ha qualcosa da raccontare voi adesso siete tutti qua per me in qualche modo tante persone mi vedono come una persona che ha fatto qualcosa di speciale in realtà io non penso di aver fatto nulla di speciale ho fatto delle esperienze sì ma tutti quanti voi avete una storia da raccontare tutti quanti voi avete quel qualcosa che vi rende speciali siamo tutti speciali a modo nostro per me la parte più bella di queste presentazioni perché diciamo dopo un anno parlare tutti i giorni nell'Iran di quello che ho passato non è così così semplice però al tempo stesso mi permette di incontrare ogni giorno voi cioè voi persone che cambiano ogni giorno ma ho ascoltato delle storie incredibili incredibili gli occhi delle persone dicono così tanto alla fine rendi conto che non serve andare all'altra parte del mondo per viaggiare basta sederti su un tavolo con qualcuno scambi due parole ti racconta quella storia e quello è un viaggio stai viaggiando attraverso un'altra persona e quelli sono i viaggi più belli di un'altra persona di un'altra persona Grazie a tutti